Nella riserva del litorale romano, tra Focene e Maccarese, nidificano in questi giorni gli ultimi esemplari di fratino, un rarissimo volatile in via di estensione. Tante però le minacce alla sopravvivenza della specie, a partire da quegli appassionati di kitesurf che arrivano con le macchine sulle dune o che con i loro enormi aquiloni finiscono per distruggere i nidi dove le poche coppie di fratino rimaste sul pianeta assistono i piccoli appena nati. Il fratino, visto che depone le uova sulla sabbia senza alcuna protezione, ha dei predatori naturali e a questi purtroppo si aggiunge l'uomo, l'uomo con il suo dissennato modo di stare sulla spiaggia. Mi riferisco in particolare alla pulizia meccanica della spiaggia, ai cani lasciati liberi, a coloro che vengono qui per fare kitesurf oppure per fare motocross. Per esempio sarebbe auspicabile che eventi come quello che recentemente ha interessato la spiaggia di Maccarese fossero evitati in futuro. Purtroppo bisogna fare una scelta se mantenere questa specie in via di estinzione oppure se lasciare spazio a chi fa sport sulla sabbia. Quindi prima di avviare una qualsiasi attività, un qualsiasi evento sulla spiaggia, per favore interpellateci in modo che si possa dialogare e trovare il modo giusto della convivenza. Da 45 coppie degli anni 90 si è passate a 10-12 coppie di quest'anno. Diminuiscono i luoghi dove si può riprodurre. Servirebbe un protocollo nuovo concordato con i portatori di interesse e quindi specialmente con il comune per cercare di far schiudere le prime edificazioni, cioè quelle che vengono fra marzo e maggio. Per proteggere le coppie di Fratino, la giunta comunale di Fiumicino ha emesso un'ordinanza che vieta attività sportive invadenti in un'area della costa dove sono presenti i nidi. Noi abbiamo ricevuto una lettera abbastanza allarmata da parte del presidente del WWF in cui ci chiedeva di poter preservare, già che lì ricadeva la zona destinata all'esercizio del kitesurf. E quindi col sindaco abbiamo deciso di interdire questa zona ed evitare per quest'anno e solo ed esclusivamente per quest'anno perché l'ordinanza ha valore annuale, l'utilizzo di una parte. Il WWF, il Comitato Nazionale per la Conservazione del Fratino e la Lipo chiedono con forza che tale area protetta venga non solo mantenuta ma tutelata anche in futuro dall'eccesso di antropizzazione.